Ben trovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Tene Iblea sul canale 110. Ci sono nel nostro paese sempre dei modi di vedere che sono spesso contrastanti e che però non fanno altro che creare più difficoltà, perché sarebbe bello, uno la pensa come vuole, però non succede niente, ognuno fa quello, dice come andare al ristorante, dove gli spaghetti con le vongole, quello invece vuole il risotto con i funghi, ognuno se lo piglia, mangia e finisce così. Invece queste cose non sono così semplici da noi e vi faccio vedere due esempi, uno riguarda la camera di commercio e uno riguarda la sanità. Allora iniziamo con questa questione della sanità, voi sapete che c'è un dibattito pazzesco sulla storia dei vaccini, nel senso che c'è il 98-99% di persone che si stanno vaccinando, che hanno il passaporto europeo vaccinale, che fanno la fila negli hub, ci sono gli hub aperti ogni giorno per poter arrivare a quella che è la vaccinazione totale delle persone e poi da un'altra parte c'è uno sparuto numero di persone che sono antivax, alcuni medici che dicono addirittura che non è giusto vaccinarsi per la libertà delle persone, eccetera, eccetera. Tutto questo purtroppo crea una difficoltà, perché? Perché di fronte al 99% di persone vaccinate è normale e quindi tutti, Facebook, cose, si stanno vaccinando. C'è la gente che manda il suo post e dice fatto, ecco, vaccinato, tutte queste cose. Poi però ci sono quei rompiscatole, non se l'abbiano a male, uno o due in percentuale, numeri bassissimi, che dicono, ah, quello che è successo a mia cugina, no, alla cugina di un'amica mia che purtroppo ha avuto dei problemi, ma io per questo non mi vaccino e tirano fuori tutte le carte possibili e immaginabili per dire che non si vaccinano. E la colpa, secondo me, di tutto questo è comunque dell'informazione che dà uno spazio uguale al 99%, quindi a 48 milioni di persone che sono vaccinate e due che dicono, ah, però è pericoloso. Allora oggi vi faccio vedere una cosa, ve lo faccio vedere, perché in ogni caso chi organizza le strutture, i responsabili delle strutture sanitarie devono barcamenarsi. Allora sono arrivati dei comunicati a chi lavora nel mondo della sanità in cui dice, e vi faccio anche vedere la parte interessata è in giallo, dice non è stato registrato alcun cambiamento nella modalità di trasmissione delle Covid, soprattutto con questa variante Delta. non è neanche detto che sia più pericolosa, però vi possiamo dire che ha una maggiore diffusibilità, parola un po' particolare. A questo punto dice però, considerato che anche i vaccinati possono infettarsi di Covid, noi cosa facciamo? Vi preghiamo di continuare a utilizzare i sistemi, quelli appunto, i sistemi di protezione dei DPI raccomandati dalle linee guida. A questo punto, quando l'ASPE dice però mantenete la mascherina, mantenete tutte queste cose, perché il vaccino, come abbiamo visto, non vi blocca, non impedisce di essere colpiti dal Covid, molto meno, però può capitare. Conosco persone che l'hanno preso anche con due dosi, magari non erano ancora trascorsi i giorni giusti. E allora ecco che i Novavax avete visto, quindi allora era meglio non vaccinarci. E che cosa abbiamo fatto? Tutto questo in genera confusione. E poi ci sono anche quelli che dicono, ah ma porca miseria, non si può costringere la gente a vaccinarsi. Io dico che se tornassimo indietro, io ieri vedevo un documentario sulla Spagnola nel 1918, allora pensate che eravamo anche in guerra, quindi c'era il divieto di parlare di spagnola, perché già avevamo tanta raccina appesa con la guerra, quindi pensate se parlavamo di spagnola. Però se allora ci fosse stato un vaccino, voi pensate che qualcuno avrebbe detto no, non mi vaccino perché sai, non si sa mai. Ed erano milioni di morti, milioni di morti, con una guerra in mezzo. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo assolutamente combattere anche questo sistema, il sistema che ci mette in difficoltà per poter viaggiare meglio, per poterci muovere meglio, per essere più sicuri nel futuro. L'altra cosa di cui parliamo, proprio per capire qual è la situazione di confusione che abbiamo in Italia, è la questione delle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio ci siamo ammazzati, abbiamo venduto la Camera di Commercio a Catania per qualche posto all'aeroporto di Comus, all'aeroporto di Catania, per fare un vicepresidente, abbiamo venduto la Camera di Commercio, abbiamo venduto la migliore organizzazione che c'era in tutta la Sicilia come Camera di Commercio, l'unica che non aveva debiti, l'unica che funzionava, l'unica che camminava come si deve e l'abbiamo venduta ai catanesi perché i catanesi volevano tutte le quote dell'aeroporto di Catania per fare l'operazione della vendita. Dice, ah ma come fai a dire queste cose? Vabbè, non sono vere, però io le dico, nel senso potrebbe essere questo. E quindi ci troviamo tutti quelli che allora erano nella direzione della Camera di Commercio, ce ne troviamo chi alla SAC, chi alla SOAC o chi in tanti altri posti. Ora che cosa è successo? Che è passato un emendamento al Governo nazionale in cui c'è scritto che possiamo spicciare le camere, cioè le possiamo mettere Siracusa e Ragusa da soli in confronto con Catania, quindi Catania da sola e Siracusa e Ragusa dall'altra parte. Allora, la cosa, guardate che è molto confusionaria perché ho chiesto in giro e nessuno sa cosa potrebbe accadere. Quindi noi che in qualche modo ci eravamo abituati a questa situazione delle Camere di Commercio, le tre Camere di Commercio unite, la Supercazzo, la Supercamera di Commercio Ragusa-Catania-Siracusa, ora dovremmo ritornare indietro, riorganizzare tutto con Siracusa e Ragusa quando poi i soldi di Ragusa probabilmente se li sono già presi, li hanno messi nella cassaforte catanese, quando i nostri sono già andati a occupare posti importanti, allora che succede? Che appena dividiamo Siracusa e Ragusa e Catania magari qualcuno che fa il Presidente alla SAC lo sbolognano perché dice scusa quanto conti a questo punto, oppure altre cose, quindi vi immaginate quello che succederà. Poi quello che mi preoccupa è l'organizzazione, come fai a organizzare in questo modo? E alla fine se mi permettete di dirlo, le Camere di Commercio non servono più a nulla, e sì perché abbiamo cancellato tutto, oggi per esempio ho avuto la prova provata come si suol dire, pensate che ci hanno rotto tanto le scatole su questo discorso dei codici a teco, se non hai il codici a teco non puoi fare la domanda per fare questo, non puoi partecipare a questo bando, non puoi partecipare a quell'altro. Bene, ci sono stati dei processi dove le persone che hanno dichiarato di non avere quel tale codice a teco hanno partecipato comunque ad ottenere finanziamenti, a vincere bandi e il magistrato ha detto che c'è tanto il fatto non costituisce reato. Allora a che cazzarola serve la Camera di Commercio avere questi codici a teco? A che cosa serve la Camera di Commercio se non solo a finanziare qualche iniziativa? Allora già è confusionaria, se ancora noi spacchettiamo Siracusa e Ragusa, se ancora permettiamo di far governare poi quelle di Siracusa, perché noi lo sappiamo siamo piccoli, quindi o ci governa Catania o ci governa Siracusa non saremo mai in grado di gestire da noi la situazione, quindi io non lo so se questa è una mossa giusta. Nino Minardo ha mandato un comunicato e ha detto che bella cosa, meravigliosa, ora potremmo crescere, voglio capire come, perché c'è un tale casino e poi ripeto, la inutilità delle Camere di Commercio si dimostra proprio in questi momenti, in cui tutto quello che si basava sui codici a teco praticamente non serve più a niente. E allora che ne facciamo delle Camere di Commercio? Che ci interessa se sono 3, 2 e 1? Tanto non servono a niente come abbiamo dimostrato in questi 3 anni a noi, più di avere un contributo per fare la fine del Mediterraneo, non abbiamo avuto nulla. Se questo non è vero, ditemi che non è vero. E a proposito di organizzazione, allora quello che conta però è avere qualcuno che traina, per esempio c'è questa associazione tesori siciliani che riesce ad essere molto trainante, non so quanto guadagna, può anche essere che non guadagna nulla, ma io gente che lavora senza soldi non ne ho visti mai. E allora hanno fatto questa cosa mettendo insieme una cinquantina di borghi. E io qui sono favorevole, perché abbiamo in tutta la Sicilia, su 300 e passa comuni, abbiamo una cinquantina di borghi che possono essere messi in, fruiti meglio, insomma in qualcosa di più interessante. Quindi questa è una bella iniziativa, anche se insisto nel dire, vorrei sapere questa via dei tesori, se questa cosa la fa gratis o se chiaramente ha degli utili, che poi se sono utili giusti, tanto piacere. Se sono utili esagerati, io ricordo che c'erano organizzazioni che facevano da mecenate una volta, che acchiappavano i soldi e poi le cose non si facevano più. Allora, sentiamo il Presidente Musumeci e Samona su questa iniziativa.